Musica Buonasera e bentrovati alla terza edizione della TG6. Apriamo con la cronaca tragico epilogo per la battuta di pesca di un 55enne teramano Pasquale Sanchieri trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi in una zona impervia di Cerqueto di Fano Adriano in provincia di Teramo. I particolari nel servizio. E' stato individuato dopo un'intera mattinata di ricerche il corpo senza vita di Pasquale Sanchieri. Il teramano, 55enne, appassionato ed esperto pescatore, era uscito di casa ieri mattina verso le 10.30 per una battuta di pesca. Per la madre il suo ritardo, abituale nella notte, era diventato preoccupante solo al risveglio verso le 5 quando si è accorta che non era ancora rincasato. E' stato allora che è scattato l'allarme, immediatamente sono scattate le ricerche. Dopo ora il tragico epilogo, il ritrovamento del corpo senza vita del pescatore in una zona impervia di Cerqueto di Fano Adriano, un luogo che solo in pochi conoscono. Il ritrovamento infatti è avvenuto grazie ai residenti del posto che hanno indirizzato le ricerche verso il sentiero che porta al torrente San Giacomo. Solo poco dopo le 13 il corpo del pescatore è stato individuato galleggiare in un fosso d'acqua. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe scivolato da un dilupo di circa 5 metri e finito in acqua avrebbe colpito con la testa un masso. La polizia, coordinata dal capo delle volanti, Miriam D'Anastasio, si sta occupando delle indagini. Sul posto gli uomini della forestale, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, polizia e guardia di finanza tutti i soccorritori hanno lavorato per recuperare il corpo ma alla fine si è reso necessario ricorrere all'intervento dell'elicottero vericellato che ha raggiunto in quota la zona. Solo dopo una complessa operazione, durata oltre mezz'ora, ai vigili del fuoco di Pescara è stato possibile imbracare la barella con la salma e i sarla a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale di Teramo. Il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, ha aperto un'inchiesta. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Ancona ha denunciato quattro persone e due società per presunti illeciti nella giudicazione di lavori di somma urgenza per 1,4 milioni di euro eseguiti dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo. I reati ipotizzati vanno dalla truffa ai danni di un ente pubblico alla turbata libertà degli incanti dal falso ideologico in atto pubblico al mendaccio bancario. Le Fiamme Gialle hanno anche proposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni riconducibili ai principali indagati. Al centro delle indagini tre appalti indetti fra il 2009 e il 2011 da un comune abruzzese per lavori di rinforzo o puntellamento di fabbricati di interesse storico-culturale. L'assegnazione era avvenuta attraverso gare informali e l'invito a cinque imprese del settore tra cui scegliere quella ritenuta più idonea. Secondo la Guardia di Finanza, i due responsabili di una società anconetana con la connivenza dei due pubblici funzionari comunali addetti alle procedure di selezione avrebbero condizionato a loro favore l'esito delle gare. Sempre stando alle indagini, le due società avevano presentato polizze fideiussorie false e ottenuto in debite anticipazioni in conto corrente per oltre 500 mila euro proprio grazie agli appalti vinti in Abruzzo. E anche a Pescara è stata molto alta l'adesione degli avvocati allo sciopero nazionale nelle parole del Presidente dell'Ordine Forense donato di Campli i motivi della protesta. I microfoni di Paolo Renzetti. Presidente di Campli, oggi attività paralizzata in Tribunale a Pescara per lo sciopero degli avvocati. Quali i motivi di questa estensione? Le Camere Penali a livello nazionale hanno indetto tre giorni di astensione dalle udienze penali quindi solo quelle penali per protesta contro il disegno di legge che modificherà il termine di prescrizione dei reati. Quindi cosa vuol dire questo in soldoni? Cosa chiedete? Le Camere Penali chiedono essenzialmente che non sia l'imputato a dover scontare a suo danno le lunghezze del processo. Si vuole che il processo sia celere, che abbia tempi certi e che quindi la sua situazione di soggetto sotto giudizio non debba protrarsi troppo a lungo. Parlando del Tribunale di Pescara dove ci troviamo oggi quanti sono gli avvocati che si astengono dalle udienze? Ma da quello che si può vedere nelle aule di udienze l'astenzione credo che sia quasi totale da parte degli iscritti all'ordine di Pescara. E lo sciopero degli avvocati ha fatto slittare al 6 giugno alle ore 15 l'udienza del processo relativo all'inchiesta della Procura di Pescara sul cosiddetto Partito dell'Acqua che si sarebbe costituito all'interno del lato numero 4 tra il 2003 e il 2007. Questa mattina il Collegio avrebbe dovuto pronunciare la sentenza di primo grado del procedimento che conta in totale 11 imputati tra cui l'ex presidente Giorgio D'Ambrosio per il quale nel corso della requisitoria il PM della Procura di Pescara, Barbara Del Bono aveva chiesto 6 anni di reclusione. Gli 11 imputati devono rispondere a vario titolo dei reati di corruzione, abuso d'ufficio, peculato falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione di documenti, truffa ai danni dello Stato e in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Le richieste di condanna riguardano solo alcuni reati in quanto per diversi capi di imputazione il PM ha chiesto di non doversi procedere a causa dell'intervento della prescrizione o perché il fatto non sussiste. Nel corso delle loro arringhe gli avvocati delle difese hanno chiesto la soluzione per i propri assistiti. E la nuova riforma della magistratura onoraria rischia di avere effetti controproducenti e di incidere sui piccoli tribunali abruzzesi con uno svuotamento di lavoro. Ascoltiamo. La nuova riforma della magistratura onoraria rischia di andare ad incidere il lavoro dei piccoli tribunali abruzzesi considerando che oggi la metà dei procedimenti è a carico dei giudici di pace. Questo potrebbe comportare uno svuotamento per i tribunali minori con ricadute che potrebbero non essere del tutto positive. Potrebbe essere un effetto collaterale non da poco, secondo me. Perché? Perché in questo modo amplificando la competenza dei giudici onorari di pace come saranno denominati da 5.000 a 30.000 euro per le cause ordinarie e fino a 50.000 euro per la responsabilità civile derivante da danni, da circolazione stradale e così via con le competenze funzionali in materia di esecuzioni mobiliari e di materia condominiale qualcosa in materia di volontaria giurisdizione questo secondo me comporterà per i piccoli tribunali un evidente calo del carico di lavoro attuale carico di lavoro che è già ritenuto poco diciamo così idoneo dal Ministero di Grazie e Giustizia per rimanere aperti con questo svuotamento di ulteriori competenze credo che sarà quasi inevitabile che questi tribunali ne risentano i giudici di pace oggi fanno quasi la metà delle sentenze in assoluto amplificando la loro competenza e svuotando quella appunto dei tribunali significherà un carico di lavoro considerevolmente aumentato per i giudici di pace per i giudici onorari di pace però questa legge è ben leggere poi si vede che è a invarianza finanziaria cioè non prevede ulteriori stanziamenti per il potenziamento degli uffici dei giudici di pace che già vediamo che funzionano poco funzionano male perché c'è poco personale e con questo ampliamento di competenze potremmo prevedere invece degli ulteriori diciamo così effetti negativi in termini di lunghezza dei processi approvato in nottata il bilancio di previsione del comune di L'Aquila tra tensioni e divisioni nella maggioranza Giorgio Alessandri in attesa che il governo Renzi dia il via libera al decreto enti locali contenente la cosiddetta clausola salva l'Aquila e con essa i 16 milioni promessi dei sottosegretari De Vincenti e De Micheli il comune dell'Aquila ha approvato come da copione in nottata il bilancio di previsione 2016 un documento in cui sotto molte voci dalla cultura al sociale spicca il numero zero pari agli stanziamenti che l'ente destinerà a quei settori si sa già invece dell'aumento della Tari la tassa sui rifiuti che per ora non aumenterà di un ulteriore 30% ma resta da capire cosa accadrà in futuro se da Roma non dovessero arrivare nuovi fondi un via libera contrassegnato dalle tensioni su tutte quelle testimoniate dalla rissa solo verbale tra il sindaco Cialente e il consigliere comunale Giorgio De Matteis un durissimo botta e risposta a cui dopo le 11 e la pizza mangiata tutti insieme dai consiglieri nell'aula delle commissioni è seguita una stretta di mano ma anche nella maggioranza le fibrillazioni erano e sono all'ordine del giorno come annunciato se la rifondazione comunista non hanno votato il bilancio con i consiglieri Perilli e Masciocco che hanno optato per l'astenzione una scelta nell'area da giorni ma che è destinata a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di governo gli assessori di riferimento di Sella e Rifondazione Penini e Leone sembrano già con le valigie in mano e si attende una riunione annunciata nei prossimi giorni in cui la decisione del sindaco e dei suoi verrà ufficializzata difficile ricostruire lo strappo di fronte a una presa di posizione tanto netta di fatto l'ala di sinistra della maggioranza ha espresso anche se tecnicamente ha garantito i numeri per l'approvazione una presa di distanza di fronte a uno strumento il bilancio che si può configurare come una fiducia eccellente alla sua maggioranza del resto lo strumento finanziario è stato approvato proprio sulla scorta di una promessa fatta dal governo nazionale ed è proprio sulla fiducia che questa venga mantenuta che è arrivato il via libera dell'aula con i soli voti della maggioranza dalle opposizioni veleni e critiche come da copione anche in questo caso prima riunione questa mattina nella sede della regione Abruzzo a Pescara per il nuovo CICAS il comitato di intervento per le crisi aziendali Alfredo Primante con la prima riunione tenutasi questa mattina nella sede della regione Abruzzo in Viale Bovia a Pescara è tornato operativo il CICAS che si occupa di valutare le crisi aziendali e gli interventi relativi agli ammortizzatori sociali il tavolo appena costituito avrà durata triennale sono state valutate le istanze pervenute 2015 e 2016 quelle con l'istruttore positiva naturalmente il CICAS ha dato l'ok adesso valuteremo quelle per il 2016 ne sono diverse lo valuteremo nella prossima seduta nel corso della riunione è stata valutata anche la situazione dei lavoratori ex interinali di Attiva S.P.A. la società partecipata dal comune di Pescara che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia in città il ministero del lavoro qualche giorno fa non ha detto sia la stabilizzazione degli interinali in quanto lo stesso ministero ha ritenuto di non poter emettere alcun parere rispetto alla domanda posta dal comune di Pescara lasciando aperta quindi al momento solo la strada del bando di concorso il CICAS è stato chiamato a valutare la possibilità di concedere ai lavoratori i benefici della mobilità in deroga un prolungamento della NASPI sia per i lavoratori cui è già scaduta sia per quelli a cui scadrà nei prossimi mesi bisogna verificare qual è la reale disponibilità di cassa perché abbiamo dato mandato all'Inps in questo senso di verificare quelle che sono poi effettivamente le risorse che dovremmo investire e per poi regolarci di conseguenza saranno assunti attraverso un'agenzia interinale nuovi lavoratori dell'ufficio della ricostruzione di L'Aquila una scelta che ha scatenato le proteste degli idonei del concorsone ascoltiamo nuove assunzioni fuori dagli elenchi degli idoni della selezione Ripam il cosiddetto concorsone quello bandito dopo il terremoto per l'assunzione di circa 300 persone a tempo indeterminato da impiegare negli uffici della ricostruzione l'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila guidato da Ragnero Fabrizi secondo quanto denuncia il comitato degli idonei del Ripam si appresta infatti ad avvalersi di personale scelto attraverso un'agenzia interinale il comitato in una nota ricorda come anche in passato aveva più volte inviato a utilizzare le graduatorie degli idonei Ripam piuttosto che a ricorrere a nuove costose procedure selettive peraltro nel caso dell'agenzia carenze dell'opportuno criterio di trasparenza pubblicità rileviamo scrive il comitato altresì che le motivazioni adotte per giustificare ogni volta il ricorso alla somministrazione di lavoro quali la selluta urgenza e la limitatezza del periodo di tempo in cui tale mole di lavoro dovrebbe essere smaltita sono puntualmente smentite dai fatti giova a ricordare a tal proposito la deliberazione congiunta 1-2013 dei titolari degli uffici speciali dell'Aquila e del Cratere che così giustificano la necessità di ricorrere per la prima volta alle agenzie interinali per l'organizzazione d'urgenza dell'ufficio centrale spropri c'è da domandarsi quindi scrive il comitato quale politica sul personale voglia seguire il rusdra che ha già al suo interno 22 collaboratori di cui solo 5 assunti dall'egrodatore ripam 10 unità di personale dipendenti dalla società bruce engineering 18 unità di personale somministrato dall'agenzia di lavoro interinale e si agginge con questo nuovo atto ad assumerne altri 10 pensa davvero tale ufficio speciale di approcciare il difficile distribuire una città capoluogo di regione ricorrendo sempre più spesso a personale selezionato da un'agenzia che non ha personatura al suo interno professionalità idonee a valutare le competenze richieste continua la nota si preferisce tale modalità all'assunzione di idonei già appositamente selezionati e valutati da commissioni composte da perfetti e dirigenti ministeriali e nominate dalla presidenza del consiglio di ministri prendiamo atto con amarezza di questa ulteriore ingiustizia affermano gli idonei del ripam nella nota e ci preme informare tutti i cittadini sulle modalità con cui gli uffici deputati della ricostruzione selezionano il personale che istruisce le pratiche per la ricostruzione delle loro case e su come si decida di investire il denaro pubblico nuovi incentivi per le imprese grazie al decreto del governo è possibile usufruire di una riduzione del 10% della tassazione sul salario di produttività a spiegare i vantaggi e le modalità di accesso alle agevolazioni è stata la CISL che ha organizzato un convegno a Pescara Francesca Romanatesti una detassazione del 10% che punta ad aumentare la produttività delle imprese e al contempo aumentare il salario dei lavoratori la CISL elogia il decreto del governo che apre nuove speranze alla tanto attesa ripresa economica ha fatto un decreto che prevede che quando c'è lo scambio tra l'aumento della turnazione la divisione dell'organizzazione aziendale persino la divisione degli utili quindi delle azioni i lavoratori hanno diritto un salario che viene tassato solo al 10% e se si fa welfare aziendale cioè se si dà dei voucher ai lavoratori per i ragazzi che devono andare all'asilinido per la menza e così via c'è completo e sono dal pagamento della contribuzione si continua a puntare sull'export quello che secondo i dati ha fatto da train all'Abruzzo nel momento più difficile della crisi diventa così strumento per una nuova spinta l'incentivo offerto alle imprese che vogliono ampliare la produttività le aziende sono informate i nostri delegati sono già preparati ad aprire il confronto anche in alcuni casi hanno già aperto con richieste aziendali si tratta di rafforzare il salario noi stiamo facendo un'iniziativa che si muove in questa direzione anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici a giorni ci sarà anche uno sciopero regionale che si inquadra nelle iniziative nazionali c'è stata una manifestazione a Roma dei pensionati unitaria abbiamo bisogno di rafforzare il reddito delle famiglie se non rafforziamo il reddito delle famiglie i consumi non ripartono e solo con l'esportazione il paese non ce la fa si è svolto ieri pomeriggio a Montesilvano il convegno intitolato il ruolo di tua nel TPL tra sindacati regione e vertici dell'azienda unica la discussione è stata incentrata anche e soprattutto sulle problematiche che sono oggetto dei prossimi scioperi previsti il 27 maggio e il 10 giugno segretario qui a Montesilvano c'è questo convegno organizzato per parlare del trasporto locale prospettive ma anche problematiche in questo momento forse più problemi che prospettive c'è una situazione paradossale dove finalmente dico io la regione Abruzzo anche su richiesta sindacale ha messo insieme le sue tre aziende del trasporto pubblico locale con la finalità di razionalizzare e di fare una struttura industriale che possa servire al servizio dei cittadini per garantire il diritto alla mobilità e su scala nazionale si affacciano ulteriori riforme che tendono a tagliare le risorse o perlomeno a spingere per una forte razionalizzazione quindi con quelle risorse occorre dare il miglior servizio alla comunità e qui abbiamo un problema abbiamo il problema che siamo d'accordo come sindacate anzi abbiamo proposto noi per primi io ero segretario generale dell'Abruzzo quando uscì questa proposta proprio da da noi di unificare le tre aziende la regione finalmente questa giunta regionale l'ha fatto e occorre una spinta in più perché ci sembra che si stiano ancora allungando i tempi per una effettiva unificazione di tipo industriale che tolga sovrapposizione di corse magari le mette in momenti di richiesta in evanza e quant'altro in sintesi occorre fare il miglio finale per avere questa realtà che non vorrei che si dimenticasse il trasporto pubblico locale verrà aperto a gare ad evidenza pubblica e già sotto attacco su scala nazionale anche da aziende che vengono dalla Francia piuttosto che dalla Germania o da altri paesi e qui si continua a ragionare forse in termini troppo provinciali e non si capisce che si rischia di perdere tutto Buone notizie per la balneabilità del mare a Pescara secondo le nuove analisi dell'Afta i valori sono nella norma in due dei tre siti interessati dai divieti resta critica invece la situazione in via Valilla Buone notizie per il mare di Pescara ad annunciarle l'amministrazione comunale che rivela ai risultati delle ultime analisi dell'Afta a restare critica al momento è via Valilla Le analisi cominciano a dare conferma della buona azione delle buone attività che sono state poste in essere chiaramente non siamo come dire siamo ottimisti ma manteniamo un'assoluta cautela peraltro nella giornata di ieri l'Afta ha proceduto a svolgere il terzo campionamento i cui risultati dovrebbero essere conosciuti nella giornata di domani e quindi anche questo ci aiuterà a capire ancora di più come evolve la situazione una buona notizia che però non abbassa l'attenzione sul monitoraggio del territorio perché ricorda del vecchio serve un'azione congiunta anche da parte dei sindaci dei comuni attraversati dal fiume poiché è nel mare che confluiscono le disattenzioni di tutti l'azione posta in essere non deve assolutamente interrompersi e questo è anche un monito a noi ma anche una riflessione un invito agli altri noi andiamo avanti nel territorio del comune Pescara con la stessa intensità dei giorni precedenti e dei mesi precedenti però sarebbe opportuno che anche gli altri comuni gli altri enti si adoperassero in tal senso e mi auguro che la task force messa in campo del prefetto possa servire proprio a questo Passiamo alla pagina sportiva sono scattati questa sera i playoff intanto il Pescara attende di conoscere domani quale sarà l'avversario Bari o Novara Andrea Costantini Va allo Spezia il primo atto dei playoff di Serie B espugnando il Manuzzi la squadra di Mimmo Di Carlo si è guadagnata la possibilità di sfidare in semifinale il Trapani di Sese Cosmi primo atto sabato sera al Picco in Terra Ligure domani sera toccherà a Bari e Novara che al San Nicola si contenderanno il ruolo di semifinalista contro il Pescara le pressioni principali sono sui pugliesi che hanno l'obiettivo di tornare in Serie A anche se le ultime ore sono state turbate da voci di un presunto pignoramento di 2 milioni di euro sui conti del club fatto smentito dal presidente Gianluca Paparesta il tecnico Andrea Camplone potrebbe riaffidarsi a Maniero Centravanti al posto di Puskas a De Luca al posto di Sansone Defendi rileverà lo squalificato Don Corr meno pressione e tanta voglia di stupire per un Novara praticamente al completo out il solo Faraoni e che tenterà di sorprendere il Bari sulle ripartenze Massimo Oddo come tutto il Pescara guarderà con attenzione il match per studiare i prossimi avversari e mentre gli sportivi si dividono su chi sia meglio affrontare in semifinale quel che è certo è che sulla strada verso la A il Defino incontrerà comunque un ex Marco Baroni quello più recente oppure andrà Camplone Pescarese Doc che come lo scorso anno col Perugia potrebbe incrociare il Pescara negli dispareggi post stagione curioso che lo scorso anno i Biancazzurri sfidarono tre ex nei playoff Camplone appunto poi Pasquale Marino e Deglio Rossi la storia potrebbe ripetersi perché in caso di approdo in finale uno sfidante potenziale potrebbe essere Cersei Cosmi vincerà alla fine la squadra che oltre ad essere assistita quando serve dalla buona sorte vedasi Bologna lo scorso anno avrà più fame e voglia di vincere aspetti che dovranno corroborare una condizione fisica che chi più chi meno non sarà ottimale per nessuna delle sei concorrenti che hanno sulle gambe già 42 partite e che la testa conti tanto dipende anche dal fatto che chi arriverà in fondo giocherà tanto in poco tempo al ritmo di una gara ogni tre giorni nel Pescara si stanno allenando in maniera differenziata Zampano e Verre che entro domani torneranno regolarmente in gruppo Ledyan Memushay in ritiro con la nazionale albanese in vista degli europei tornerà in Abruzzo venerdì e sarà a disposizione per la prima partita una curiosità la novità prevista dal regolamento cioè la finale con tempi supplementari e rigori in caso di arrivo in classifica con lo stesso numero di punti sarà possibile solo se l'ultimo atto sarà tra Bari e Cesena che hanno chiuso a quota 68 coi Galletti Quinti e i Romagnoli Sesti per via dei risultati degli sconti diretti e anche di playoff ha parlato questo pomeriggio l'allenatore del Pescara Massimo Oddo oppure essendoci diverse variabili l'allenatore Biancazzurro crede nel lavoro svolto fin qui nella forza del suo gruppo e si mostra pertanto fiducioso ascoltiamolo si azzera tutto perché si azzera tutto ognuno ogni squadra parte dalle proprie certezze da quello che ha costruito durante un anno noi abbiamo fatto un ottimo lavoro perché alla luce di quanto fatto alla luce di una squadra praticamente nuova alla luce della vendita di giocatori importanti e della ricostruzione quasi totale di questa squadra abbiamo fatto credo un grande lavoro la differenza con l'anno scorso per quanto mi riguarda è che l'anno scorso ho dovuto lavorare più che altro sulla testa tenendo poco presente quello che è il lavoro sul campo perché ovviamente non c'era tempo la differenza ad oggi è quella che ci portiamo dietro il bagaglio dell'esperienza di un anno fatto insieme e quindi c'è una base di certezza in più per quanto mi riguarda alla squadra do un otto un otto pieno perché ripeto non era affatto semplice ripartire praticamente da zero io preferisco non darmi un voto preferisco che gli altri lo diano a me io quello che posso dire è che ho messo tutto me stesso il massimo impegno per cercare di trasmettere quelle che sono le mie idee e il merito e dei ragazzi che hanno saputo recepire bene il mio modo di vedere il calcio ma se tutti danno per favorito il pescara è perché vedono il pescara determinate qualità se voi chiedete a me chi do per favorito anch'io vi dico il pescara perché credo ciecamente nei miei ragazzi credono ciecamente nel lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento ma questo non vuol dire assolutamente peccare di presunzione non vuol dire che vinceremo sicuramente vuol dire che ci crediamo fortemente allo stesso tempo sappiamo perfettamente che non c'è una favorita che sarà veramente durissima contro qualsiasi squadra e ce la giocheremo fino in fondo però noi crediamo in quello che abbiamo fatto fino a questo momento e crediamo in quello che possiamo fare poi ci vorranno anche tante altre componenti guarda la fortuna Scendiamo in Lega Pro è quasi fatta per il prossimo allenatore del Teramo tutti i particolari nel servizio di Jacopo Forcella A meno di clamorose sorprese dell'ultimo istante sarà Lamberto Zauli il prossimo allenatore del Teramo il tecnico che quest'anno ha guidato il Sant'Arcangelo penalizzato ad una salvezza insperata e l'uomo scelto dal sodalizio di via Oberdan per sostituire Vincenzo Vivarini una carriera da calciatore di assoluto livello una da allenatore ancora tutta da costruire per il 45enne ex trequartista di Vicenza Bologna Palermo in Serie A massima serie a cui però Zauli arriva tardi dopo una lunga trafila in provincia molta serie C dal 2009 in poi quando dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Zauli si trasferisce a bordo campo e si siede in panchina la prima esperienza con il Bellare e Giamarina poi Fano Reggiana in ritorno a Vicenza ma Sponda Real Pordenone infine Sant'Arcangelo raccoglie una squadra comunque fiaccata da sei punti di penalizzazione ma riesce comunque a raccogliere 39 punti grazie soprattutto alle 12 reti dell'ex chieti Marco Guidone punto ormai ad essere un bomber di categoria non solo lui però perché i romagnoli hanno potuto contare sulle incursioni di Francesco Margiotta e le invenzioni di Dario Venitucci due che potrebbero entrare nell'orbita bianco-rossa nel prossimo mercato estivo nulla da fare dunque a quanto pare per Fulvio Pea che negli ultimi giorni sembrava il principale rivale di Zauli per sedersi sulla panchina del diavolo invece specie nelle ultime ore era stato sorpassato anche da Leonardo Colucci tecnico della primavera del Bologna con Zauli il Teramo fa una scelta ben precisa affidarsi ad un tecnico giovane pronto a lavorare per un progetto non a brevissima scadenza nelle prossime ore Zauli potrebbe arrivare in Abruzzo per limare gli ultimi dettagli di un accordo che sembra praticamente fatto poi inizierà il mercato per il rafforzamento della scuola biancorossa questione di ore ma sembra proprio che a Teramo sia per iniziare l'era targata Lamberto Zauli Parliamo di golf migliorare l'offerta turistica dedicata ai senior promuovendo il patrimonio culturale e paesaggistico presente nelle immediate vicinanze dei campi da golf questi gli obiettivi del progetto Setour la cui fase di test avviata in Portogallo Francia e Spagna nei mesi scorsi si conclude in Abruzzo l'iniziativa che si è svolta al Golf Club Country di Miglianico vede un ruolo attivo della regione Abruzzo che ha proposto il proprio territorio come area pilota per il test dei pacchetti turistici Golf & Wine realizzati nell'ambito delle attività del progetto e finalizzati alla guida e dalla scoperta delle migliori tradizioni vitivinicole il Setour assume un ruolo ancora più importante in un'ottica di internazionalizzazione e di implementazione delle destinazioni turistiche legate al mondo del golf considerando che l'Italia sarà un grande protagonista della Rider Cup 2022 la più prestigiosa manifestazione di settore ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti